La contorsionista, tamponatela! Ah, quella della valigia! Buonasera, desidera? Raffaello, dove sta? Il Conte Mascetti era qui orora, deve essere andato un minutino al gabinetto, glielo chiamo subito. Occupato, no? Signor Conte, c'è una gentile signorina che lo desidera. La maiala della tua, la tua. Raffaello! Uh, Carmencita, amore mio! Ma dove ti è ricacciata? Io! Eh, sì, ti ho cercato in albergo, dappertutto, non ti ho trovato. Vero, vero, vero. Era disperato, sempre a dire, ma dove sarà andata a finire, Carmencita? Dove sarà andata a finire, Carmencita? Io ho camminato, molto camminato, e su una fortuna che ho trovato questo ticket in tua tasca, con un indirizzo di qui, ecco, guarda. Ah, il Conte. Se pagassero i conti in questo ristorante, certe cose non succederebbero. Ma sto, perché sei andato via? Non ha telefonato, nada! Carmencita, amore mio, io sono uomo d'affari, blindala supercazzola prematurata, non ha cosa da segni, tappia-tappioca, tappiocatorapia, dollari di sterline, allaccia-scarpa-scarpa-allaccia di quanto albergo. Ma tu? Mi hanno gettato fuori di albergo. Ma guarda che gentaglia, è assurdo. Mi hanno lasciato solo mia valigia di lavoro. Mira, vuota, nada! Adesso gli faccio vedere io, vado subito all'albergo. No, tu fermo, io hai capito te, io non sei tonta. Tu vuole ancora scappare, tu stanco di me. Ma io non mi muovo di a chi, io ho perdito tutto, mia giacchetta, mia pelliccia, mio anello, e anche mio lavoro. Cosa faccio ora? Che lavoro ha se uste, signorita? Ah, già, lei, lei non la conosce, il commendatore. È una vera fortuna, questo è il commendatore Sassaroli, un grande impresario. La signorina è una famosa condorsionista e con questa valigia fa un numero veramente eccezionale. Internazionale, mai visto nulla di simile. Muccio gusto, signorita. Che lavoro esiste? Straordinario, straordinario. Si intorcina tutta su se stessa e entra in questa piccola valigetta. Sì, e ci si fa chiudere. Non è spossibile. Oh, come no, l'abbiamo vista tutti per bacco. Eh, la valigia è qui, da resta. Sì, 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 spostiamo, spostiamo tutto. Sassaroli, ma che intenzione hai? Ah, sì, si mette in intenzione. No, no, io mi conosco, non esageriamo, eh. Ma vediamo qui. E così avrà una scrittura. Per dove? Per la catena di miei circhi, lo circo Sassaroles. Naturalmente io non prometto nada, primero tengo che vedere. Usted es libere? Oh, ma certo, è certo che è libere. E gli faccia vedere al commendatore suo. No, ragazzi. Stazzetto egoista, non vorrei mica troncarne la carriera. Ha un avvenire in valigia. E come fa a respirare? Oh, se è per questo ci sono i buchi, eh. Ah, sì? Allora, signorita, bueno, accomodaci. Io non posso lavorare senza musica. Musica, subito. Musica, subito. Bento, orientale. Musica. Bene. Grazie. Atmosfera pronta. È straordinaria, commendatore. Non si è mai visto niente di simile. Prego. Mai. Attenzione, attenzione. Brava. Silenzio. Via, via, via. Via, via. Via, svelchi. Via, via. Hop, 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 hop. Forza, che sono i buchi. Dai che parte. Dai. Dai. Sistema.